La disoccupazione in Francia sfonda quota 3 milioni. Ennesima doccia fredda per il presidente François Hollande, che a luglio aveva promesso di invertire il trend negativo. I numeri dell'Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici, al contrario, confermano una crescita dello 0,1% nel periodo tra aprile e giugno. A Parigi, però, preferiscono vedere il bicchiere mezzo pieno. Il tasso di senza lavoro ha comunque visto una frenata rispetto al primo trimestre, merito delle misure del governo, sostiene il ministro per il lavoro Michel Sapin, e il tasso di disoccupazione tra i giovani sotto i 25 anni è calato al 24,6%.